ciao a tutti dunque scusate questo cambiamento di direzione adesso mi sistemo un attimo poi riuscirò a parlarmi in modo decente bene per quanto mi riguarda io ho votato in germania come voi sapete e ci sono stati anche dei problemi per la votazione perché qualcosa non aveva funzionato a livello burocratico ma comunque adesso va tutto bene e ne abbiamo discusso brevemente in classe anche perché nel mio paesino in italia invece nel mio paesino invece le cose sono andate in modo proprio un minuto di silenzio per come è andato nel mio paesino delle votazioni devo riprendermi dal mal di testa comunque qua nella germania centro settentrionale diciamo nella renania del nord westfalia l'alternative for deutschland e più o meno al 6 per cento soprattutto nella città di colonia quindi siamo relativamente vessi meglio che nell'est perché nell'est è stato uno sfacilo perché hanno paura di qualcosa che non hanno cioè gli stranieri ne hanno molti di meno che qui e qui la vita va avanti anche così anzi gli stranieri lavorano per cui non so che cosa ci sia da lamentarsi ma sono preoccupato e niente io ho votato per la prima volta in germania adesso da qualche tempo ho anche passato l'esame per prendere un giorno la cittadinanza e la cosa più divertente è che ho anche io ho la possibilità di guidare qui e ho anche il documento per guidare aspettate un attimo mi si sta bruciando il cervello sto studiando troppo tedesco mi viene solo il nome in tedesco per guidare quella patente di guida io ho la patente di guida tedesca perché scade fra molto molto tempo invece quella italiana mi scadeva ogni 10 anni mi stavo scazzando di brutto e quindi ho fatto direttamente quella tedesca mi è costato un po' ma non importa ho fatto bene non me ne pento niente questo è quanto le elezioni sono andate in modo orribile secondo me soprattutto in italia nel mio paesino nella mia regione sono andate relativamente male ma poteva andare anche molto peggio come per esempio il fatto che Salvini sia il primo da impiccarmi un primo partito in italia non è una cosa che riesco ad accettare qui invece in germania sono andati molto forti i verdi bella cd si è andato peggio del solito e l'alternativa for dolci non crescendo fortunatamente ma non come cioè sta crescendo in alcuni punti in altri no era andata anche peggio in passato poi vedremo come andrà perché ci sono altri problemi non solo gli immigrati in germania quindi le persone si stanno preoccupando più per l'ambiente infatti i verdi spopolato diciamo in questa votazione guardato prima i dati adesso tutto a memoria non mi ricordo ma comunque la coalizione al governo la grande coalizione invece per quanto riguarda le elezioni italiane io sono proprio disperata perché non ci posso credere capisco che molte persone non la penseranno come me ma non è insultandomi che mi farete cambiare idea anzi penserò soltanto che siete dei cretini scusate se non sono stata esaustiva brillante eccetera ma c'ho un mal di testa assurdo e anche questo che mi si sta chiudendo niente un bacione a tutti e ci vediamo